Qui ho l'amico Massimo che per me è un'immagine di esempio del bel vestire, quello che lui sa anche trasmettere agli occhi di una certa fascia di pubblico interessata, perché interessare vuol dire entrare in una certa cultura, va bene, ben visiva ma anche poter viverla, è un arricchimento che dentro di sé si valorizza e si porta, ecco, e oltretutto si spera di poter mettere a conoscenza anche i più sprovveduti, purtroppo oggi siamo in un mondo che sì, anche avanti, però chissà per cosa io mi accorgo che in certi effetti sono ai quanto si nascono a desiderare, io credo, specialmente nel buon gusto, ma in tutto, un po' in tutto, non solo nel vestire, anche nel mangiare, se proprio vogliamo dire, anche nel ristorazione, perché oggi basta fare veloci, giustamente è la vita che ci impone anche a questo, anche questo è vero, e per conseguenza si valorizza, si valorizza veramente un po' troppo.